Siamo nella zona tra Campea e Premaor, che è una zona ricca di vigneti ed è pacifica, praticamente sarebbe tra la Valsana come zona. Conclude il nostro giro tra Vado Biadene, Guia, Santo Stefano e la zona di Solivorto. Qua non si sentono altri tumori se non canti di uccelli o di sicale o qualche schiamato di qualche uccello ed è molto bello, anche se venire qua diciamo che è impegnativo per le grosse salite che si trovano. Grazie per la visione!